E bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono tornato con uno squad builder questa volta perché me l'avevo detto che l'avrei portato ma questa volta non è il video delle ibride che comunque arriverà sul canale non vi preoccupate, ibride comunque è sempre a tema TOTS con budget superiori Ma questa volta vi porto un video riguardante le squadre progressive, torneranno le guide ai campionati progressivi partendo dalla Premier League perché è uscito ormai praticamente dalla versione finale della Premier League con i TOTS della Premier Poi settimana prossima uscirà sicuramente il loro video riguardante appunto le squad builder sulla Lega progressiva perché appunto oggi stesso usciranno i TOTS della Lega e così via perché quando usciranno quelli dalla Bundesliga, dalla Serie A e della Lega hanno ovviamente così via per ciascuna Lega Quindi niente, spero che questa tipologia di video vi piace come al solito, ripeto ragazzi, lasciate comunque anche sempre il like, iscrivetevi al canale perché sapete che mi fa sempre piacere ed è l'unico modo anche per capire se effettivamente sto facendo bene o se c'è qualcosa da migliorare all'interno dei video E niente, iniziamo con i video vero e proprio, boom, stiamo su FUTPIN come al solito in realtà, perché tanto sempre qui, sempre questo è il sito che uso per farvi vedere le squadre E una squadra iniziale è una squadra basilare, sinceramente, costa in circa 100.000 crediti, raga, è sempre la stessa squadra, in realtà lo sappiamo tutti La classica squadra per iniziare e importare il nuovo Pope, Volker terzino, 6.2 a 7 da swappare con Volker, quindi mettete poi Volker difensione centrale, Gio Gomez, Telles Centrocampo, io vi consiglio di sbloccare perché fino ad oggi lo potete fare o comunque se lo avete già sbloccato e poi di andare ad utilizzare Rodri a centrocampo Pogba, come altro centrocampista, che secondo me per quello che costa in questo momento, cioè 6.000 crediti, è regalato Lucas Mora esterno destro, Samax e me esterno sinistra, i due bug da inizio gioco ce li portiamo avanti, ripeto, perché per questi budget Questi sono i giocatori che ci possiamo permettere, Gabriel Jesus, Bamford, altro giocatore che insieme a Rodri viene regalato all'interno degli obiettivi Scadono oggi, oggi esce anche la nuova season, quindi sono un po' in hype, spero che alle 7 droppino qualcosa di carino anche per questa season finale praticamente E ripeto, questi due giocatori scadono oggi, ovviamente se non avete i soldi oppure non li avete sbloccati questi due giocatori Andate a inserire due giocatori abbastanza semplici, due giocatori abbastanza normali, a posto di Bamford magari andate a mettere un Martial A posto di Rodri un centrocampista che difende, magari inserite un Allan, un Sissoko, un centrocampista che costa poco per rientrare sempre nel budget di 100.000 Ma che sa che difendere Budget da 250.000 crediti, qui non vi consiglio alcuna di inserire nessun TOTS perché secondo me a questo punto del gioco, cioè il primo upgrade che bisogna fare è proprio Gabriel Jesus Perché ripeto, a questo punto del gioco Gabriel Jesus si può vedere, non si può utilizzare E io vi vado a consigliare di inserire direttamente l'attaccante che secondo me nella Premier League per quello che costa, qualità, prezzo E uno tra i migliori ed è proprio Za Headliners, lo mettete, lo usate con finalizzatori, l'ho provato così Ci ho fatto il mio primo edit 3 dell'anno con Za Head, con il finalizzatore, veramente molto 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 forte Secondo me per quello che costa, ripeto, in Premier League non ha paragoni E in realtà vedete come poi come il budget è preciso di 250.000 crediti Passiamo all'altro budget, cioè quello da mezzo milione di crediti Quindi raddoppiamo letteralmente i crediti E quindi qua a questo punto, bello Pogba, ma si potrebbe andare a sostituire con secondo me appunto uno, il primo Cioè Tots, scambiabile a parte il role della parte del bandboard, che vi vado a consigliare appunto di inserire in questa squadra Cioè che i Kaigundokan, i Kaigundokan in realtà da quello che ho visto, in realtà siano i pick, siano i Tots garantiti Anche nei pack che ho aperto a voi in questi giorni, no? In live Devo dire, l'ho trovato una marea di volte L'ho trovato anch'io infatti Però lo sto provando in questa mattina, l'ho provato in VL, lo sto provando in questi giorni E' veramente molto molto forte, quindi ve lo consiglio per quello che costa, poi costa 90.000 crediti Quindi con ombra, tanta tanta roba, sia da mediano, sia da mezzala in un 4-3-1-2 volendo Veramente tanta tanta roba a Gondokan, quindi provatelo, costa pure poco, ripeto, quindi dà te una chance E l'altro giocatore che io vi vado a consigliare poi di inserire, sempre con questa tipologia di budget E Humin Son, classic Ones, in realtà classico Humin Son, If E dopo i dati girare, secondo me, in game, in questo modo, za esterno, son prima punta Per sfruttare ovviamente il 5 di Debole, ovviamente ora rimetto tutto a posto Quindi così come potremmo vedere abbiamo una squadra a mezzo milione di crediti Bene, passiamo al budget da 750.000 crediti Quindi vi vado a consigliare di fare una piccola cosa, cioè Questo downgrade, lo so, voi dite, ma perché? Perché sclome ci sta, downgradeate, za headliners alla sua versione Sif Ovviamente sì, sarà un po' più scarso, però considerando che lo andrete a utilizzare in questo budget Come esterno e non come punta, secondo me anche la versione Sif basta, avanza Perché faccio questo? Perché andremo poi a togliere Bamford Che, ok, un Toz regalato, è buono, ma non è fenomenale Ma andiamo a inserire Rushford, la versione If Questa versione di Rushford, secondo me, è una delle versioni anche migliori Ok, ci sono anche le versioni Sif, Tif, Tottage, Tots, che è istinto Ci sono un sacco di carte buone, però questa secondo me è la versione qualità-prezzo Tra le migliori, in questo ultimo periodo ci sono anche tantissimo di prezzo Quindi per 250.000 circa che costa vale veramente la pena, secondo me, darei una chance E poi l'altra miglioria la farei qua in porta, mettendo probabilmente il portere più forte del gioco Cioè, Popif, in realtà lo porterete avanti finché non andrete a sostituire con Vi spoilerò già, Ederson, Tots Ma ha budget superiori, però secondo me Popif basta, avanza, anche per fare degli ultimi risultati in VL Budget ha un milione di crediti Budget ha un milione a questo punto di potenziare un po' la difesa Perché l'abbiamo un po' trascurata nei primi budget Abbiamo migliorato il centrocampo, gli esterni, l'attacco Adesso andiamo a migliore la difesa Anche qui vi consiglio di utilizzare e di provare un altro giocatore Che, in realtà, come Rushford If, stesso discorso, è calato tantissimo Ma lui rimane, secondo me, ancora molto molto forte Che è Gio Gomez, la versione If Devo dire, anche lui, fortissimo, con ombra, lo conoscerete, regà, e Gio Gomez Non passerete praticamente mai, perché è velocissimo Un game enorme, la montagna, quindi per 200.000, secondo me, Gio Gomez ci sta tantissimo E qui vi do consigliare di fare lo stesso trick che abbiamo fatto prima Cioè, andiamo a levare Popif e andiamo a rimettere la versione pop normale Beh, raga, ovviamente, se avete questi 30-40.000 crediti in più Potete anche non fare questi giochetti Io li sto facendo proprio per rientrare nei budget precisi di 1.750.000 All'incirca poi rientro nel budget Però cerco di seguire questi budget Però, ripeto, se voi avete qualche soldo in più a disposizione Non c'è bisogno che fate questi piccoli trick di calare da Popif a Pop normale Sto cose così, eh Però, intanto mettiamo Poppe qui E andiamo a levare la versione di Lucas normale E andiamo ad inserire San Maxi Amen alla versione IF a 7 d'intesa Qui il budget sarà circa, ripeto, quindi come vi ho detto Di 1.030.000 crediti E andremo ad inserire, ripeto, San Maxi Amen alla versione IF a 7 d'intesa Così avremo Zai e San Maxi Amen esterni Rashford son punte Uno col 5 di skill, l'altro col 5 di debbre Quindi attacco, volevo dire, molto molto completo Rodergun Dokan Centrocampo completo Walker, Roger Gomet, Sif, difensore di centrali Se ne vedo TLS esterni Poppe, la versione normale importa Budget a 1.5 milione Budget a 1.5 milione Andiamo ad inserire un altro TOTS Sì, è il momento di inserire un altro Perché secondo me l'abbiamo inseriti troppo pochi E soprattutto perché sono veramente rotti i TOTS della premia in realtà E andiamo ad inserire Luke Shaw Ma... Gli vado a consigliare di fare questa cosa Leviamo Walker Mettiamo 6 milioni da 10 d'intesa Spostiamo il gioco a Mets qui In realtà non cambia niente Però metto il gioco a Mets qua E qui a 7 d'intesa Inseriamo TLS Perché TLS? Perché mi inserire un terzino qualunque della premia Da poi a swappare Così in questo modo In game giocherete con Luke Shaw Difensore di centrale TLS o un qualunque terzino della premia Ve lo abbiate Come terzino sinistro Normale Altro cambio che a questo punto si potrebbe fare Che già vi avevo prima annunciato E andare a sostituire Pop O Popif Che quello che sia Con la versione TOTS di Ederson 100.000 crediti 94 di overall Il portiere in teoria più forte della premia riga E comunque tra i portieri più forti dal gioco Io l'ho provato L'ho trovato Nei TOTS garantito Devo dire Molto fortunato E ho trovato Gundogan e Ederson Nei miei due account Però devo dire Anche lui l'ho provato come Gundogan Mi sono trovato bene Alla fine Sono forti Sarebbe stato bello trovare i TOTS seri della premia Però Non mi posso manco lamentare Perché alla fine Ederson Non importa Devo dire Sta facendo il suo A questo punto come potete vedere Il budget è di 1.4 milioni Per arrivare a 1.5 Sostituiamo questa volta La versione Sifresa E rinseriamo Alla versione Headliners Budget 1.5 milioni Di crediti Praticamente Precisissimo Quasi Quindi Rientrerete precisamente Nel budget Di 1.5 milioni Passiamo al prossimo Budget 2 milioni 2 milioni Anche qui Andiamo a inserire Qualche altro TOTS In realtà Da ora in poi Come potete ben vedere Inserirò solamente Più o meno Ovviamente Però TOTS Perché sono le carte Più forti Più rotte Anche economicamente Parlando Tra le più forti Che si possono avere Per una full Premier League Ovviamente Siete anche voi Libri di scegliere Se rimanere in questo modo Cioè In game Più ovviamente Tellez Terzino Luke Shoujo Gomez Difensori centrali E Andare a levare Cancelo Sbagliato Andare a levare Il seme Do Per ovviamente Cancelo Come l'ho scritto Eccolo qui Bomba E arrivate così Al budget Di 2 milioni Di crei Oppure Scegliete di fare Questa cosa Rimettete il seme Do come terzino Destro Lasciate gioco Mazzifo Mettete Luke Shoujo A fare il terzino A 10 In intesa Ovviamente Come vi avevo Già fatto vedere Levate Tellez E inserite Ruben Dias L'avversile TOTS Lui l'ho piccato Devo dire Molto 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 Forte Anche qui il budget Come potete vedere Di 2 milioni di crei In realtà Qualcosina di meno Però comunque Stiamo lì All'incirca Scegliete voi Quindi Chi andare a Migliorare Scegliete voi A chi dare priorità Se è al terzino destro Oppure se è al difensore centrale Se potenziare Completamente la difesa O potenziare appunto La fascia Quindi Il terzino destro E altro cambio In realtà Che vi faccio vedere Rientrerete sempre nel budget Da 2 milioni di crei Anche questo Il seguente Cioè andare a levare La versione E aggiungere Fofone alla versione Tots In questo modo Avrete sia Ruben Diaz Fofone a Tots Con Ederson E Luke Shaw Quindi praticamente Avrete la difesa Quasi full Tots Con un budget Comunque di 2 milioni Che ok Non è poco Ma non è neanche tantissimo Così tanto che ormai Siamo arrivati a maggio Quindi In realtà Molti di voi Penso che questi crei Li abbiate a disposizione Quindi Potenziata la difesa A questo punto Come potete vedere Cerco anche di stringere Di non dilungarmi Troppo Nel video Perché sennò Durirà veramente tanto E non mi va Che questi video Durano troppo Perché sennò Poi arrivano Tre persone Alla fine del video Quindi Sennò Che di stringere Abbastanza Comunque stavo Dicendo Potenziata Ormai letteralmente La difesa Perché avete Praticamente La difesa finale Praticamente È tutta Tots Sì Poi volendo Si potrebbe andare A potenziare Anche se me do Vero Con cansello Ma secondo me In questo momento Andare a potenziare Cansello Cioè se me do Con cansello Cioè Sì si potrebbe fare Però non dico che Non spreco di creti Però secondo me I creti Aggiuntivi Quindi il prossimo budget Il prossimo upgrade Da fare alla squadra Secondo me Io lo concentrirei Sull'attacco Levando Za E aggiungendo Adama Traore Perché Adama Traore Non è un Tots No Ma è un Treno La versione di Adama Traore Borde Penso sia una delle carte Più forti Una delle attaccanti Cioè anche qualità prezzo Più forti della Premier League Anzi secondo me Il più forte forse Qualità prezzo Perché sì Bello Rashford Ma è Tots Ma è stinto Tipo a sopra Tra i milioni Lui per quello che costa Un milioncino circa È veramente Molto 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 forte Se non l'avete mai provato Provatelo Se avete i soldi In qualunque squadra Se riuscite a linkare Daterli un try Perché è veramente Molto 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 forte Quindi come potremmo vedere All'incirca il budget È di 2.7 milioni Quindi diciamo All'incirca Rientravo nel budget Quindi all'incirca Rientravo nel budget Dei 3 milioni di crediti E passando al budget Successivo Cioè quello di 4 milioni Io vi vado a consigliare Di inserire Al posto di Chung Min Son La versione Sala di Tots Perché secondo me Tra i top Dalla Premier Qualità prezzo Sala è Tra i migliori comunque E devo dire Secondo me così La scuola è tanto Molto 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 forte Tanta roba Secondo me avrete Gundo Carro della centrocampo Tots Salah San Maximan sulle fasce Rashford Adama come punte Ovviamente in realtà Salah si potrebbe anche utilizzare Come punte Insieme ad Adama E Rashford San Maximan Come due esterni Pofana Ruben Diaz Difensore centrale Insieme a Duccio Terzini Ederson in porta Avete praticamente tutta la squadra Full Tots Anche qui Sì ovviamente Ormai vi faccio vedere Gli ultimi upgrade Che secondo me Andrebbero fatti Anderà a sostituire Semedo Con la versione Tots Di Canseiro Anche qui aggiungerete Mezzo milione di budget Praticamente ormai Stiamo arrivando Alla squadra finale Come potrebbero vedere E Praticamente Stiamo arrivando A full Tots Ora Ve li faccio vedere Ma sono Gli ultimi upgrade Praticamente Venga Sono Tutti Tots Ve li faccio vedere Perché Ci sta a farveli vedere Perché sono comunque Tutti Tots Della Premier Io andrei a fare Una roba del genere Comunque Se avessi a disposizione Tutti questi crediti Cioè Sonna a full intesa Rashford a 7 Rush l'ho permesso Come esterno Sono messo Come prima punta Sarà così E io Lascierei Adama Traoré Non mettere Ne Vardy Ne Kane Io giocherei In questo modo Altro upgrade Si potrebbe fare A questo punto A centrocampo Con De Bruyne E si Anche qui Con Bro Fernandes Però ragazzi Stiamo vedendo Come il budget Di questa squadra A questo punto Diventa Infinito Budget Che noi Non abbiamo A disposizione Comunque Questa sarebbe Poi la full Full Premier League Secondo me Più forte Tutta Tots Tranne Adama Perché Adama Merita di rimanere E questa sarebbe La full premier Vabbè Diciamo che La parte finale È un po' Andata in cacciata Perché è troppo Troppo costosa Questa squadra Secondo me Per dei nostri budget Però vabbè Io ve l'ho mostrata Ma secondo me La parte interessante Del video Secondo me È la parte iniziale Con i primi budget Fini al budget Secondo me Da 2-3 milioni Che sono forse Critiche Più o meno Tutti noi abbiamo A disposizione Fino a questo punto Del gioco Intendo E la parte finale In realtà Ve l'ho fatta vedere Un po' così Per sognare Per vedere delle squadre Forti Ma che tanto Nessuno di noi In realtà Può permettersi Rip E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ripeto Se vi ha lasciato un like Se siete al canale Passatemi a seguirmi Anche su Twitch Se avete voglia E niente Ci vediamo al prossimo video Che sarà Un pack opening E niente Vi ripeto Buona giornata E ciao ciao